Oggi vi voglio raccontare una storia, ed è la storia di Blake Ross, un ingegnere informatico capoccione, un uomo dalla grande intelligenza nel team per esempio che ha realizzato Mozilla Firefox, il browser web, quindi non certo l'ultimo degli stupidi, che nel 2015 si imbatte in un articolo a firma Carl Zimmer sul New York Times che gli cambierà la vita, la stravolgerà. Nell'articolo di Carl Zimmer si parla di afantasia, una nuova condizione della mente umana studiata dalle neuroscienze e dalla psicologia cognitiva soltanto a partire dal 2005 e il cui nome viene dato soltanto nel 2010 da un team della Exeter University guidato dal dottor Zeman, che funziona così. Il soggetto affetto da afantasia è incapace di formare delle immagini mentali delle fantasie, appunto delle rappresentazioni se vogliamo, che siano molto dettagliate e gli risulta quindi praticamente impossibile evocare a comando delle esperienze sensoriali, come per esempio, non lo so, l'odore della pasta alla carbonara, non riescono a immaginarlo, non riescono a immaginare la musica di una canzone oppure una spiaggia, vedere una spiaggia con i propri occhi chiusi, insomma, come le persone normali fanno costantemente quando fantasticano. Ebbene, Blake Ross legge questo articolo e si paralizza. Si paralizza perché si rende conto che la condizione descritta all'interno dell'articolo è esattamente quella che lui ha vissuto per tutta la sua vita. Blake Ross è incapace di visualizzare o di evocare a comando sensazioni sensoriali nella sua mente, non lo sa fare. Ma la cosa interessante, quello che rende questa storia veramente molto interessante ma anche molto triste da un certo punto di vista, è che Blake Ross non aveva la minima idea che quello fosse un problema, non si era mai reso conto che le altre persone avessero questa capacità, sapessero immaginare, non lo sa. E quindi comincia una ricerca sui social network, comincia a chiedere informazioni alle altre persone e si rende conto, ci sono dei post molto toccanti in realtà, in cui lui chiede ma, ascolta, ma se io ti chiedo di vedere una spiaggia, ma tu riesci a vederla nella tua mente? E la persona gli dice sì, certo ci riesco, ma riesce a vedere il colore della sabbia? Fa sì sì, è giallo, lo vedo, e il mare si muove, ma c'è un rumore? E queste persone gli descrivono le immagini mentali, le rappresentazioni, i sogni ad occhi aperti che riescono a costruire. E Blake Ross è paralizzato perché si rende conto improvvisamente che tutta la sua vita gli è mancato qualche cosa, ha un deficit, diciamo, di cui non aveva mai sentito parlare. E questa storia è interessante, è interessante perché disegna a un certo punto una specie di rappresentazione pasticciata di una sorta di cane che lui dice nella sua mente poter essere un cane, un gatto, o addirittura Hugh Jackman, quindi diciamo che non riesce a distinguere i particolari, c'è una figura con delle gambe, una vaga testa e lui la può, è la stessa rappresentazione che lui vede quando pensa a qualsiasi cosa. E spiega che non riesce a immaginare il sapore della pizza, si ricorda che si piace, che gli piace, ma razionalmente non sa rievocare quel sapore e quindi è interessante. La fantasia in realtà è una condizione che colpisce un buon numero di persone in varia misura, naturalmente ci sono casi più o meno estremi, ed è particolarmente importante e particolarmente tassante da un certo punto di vista perché la capacità di immaginare, come abbiamo visto quando abbiamo parlato di tecnica e di memoria, è alla base del ragionamento, è alla base della creatività, è alla base della memoria e quindi dell'utilizzo efficiente della stessa e quindi la fantasia può essere una condizione piuttosto difficile da superare, anche se come dimostra proprio Playcross si può essere delle persone estremamente intelligenti e competenti, un ingegnere di quel livello, anche senza immaginare. Però è sicuramente una condizione interessante, paragonabile magari da un certo punto di vista alle condizioni di chi non vede i colori per esempio, esiste anche quello, insomma sono condizioni della nostra mente o dei nostri organi di senso che mancano di qualche cosa e ci costringono a vedere da un altro punto di vista le funzioni del nostro cervello, anche quelle che diamo per scontate e che in realtà così scontate non sono. Io sono Alessandro De Concini e tutti i giorni vi parlo di cognizione, apprendimento, ragionamento, cultura qui su Facebook e sugli altri canali social. Condividete questo video se vi piace, se vi interessa avere un punto di vista differente su quello che abbiamo nella nostra mente e noi ci vediamo domani per un prossimo video.